Oggi, adesso fa un ultimo giro con il 60 ovest. Sì, abbiamo lasciato un po' di guardia, credo, però noi adesso siamo un po' in casa, se riesci, se no, non so, guarda che Antonio l'aveva lasciato un po' di guardia, ok? Allora, non so, guarda che io, questo è un po' di guardia, ma qui è un po' di guardia, ok? Il calco è andato via là. Il calco lo sta seguendo per capire cosa fa. Il calco è andato via là. Il calco è andato via là. Il calco.